Tocca a me salutare e ringraziare tutte le autorità presenti oggi qui in chiesa. Un abbraccio affittosissimo ai familiari di Rosario. Io chiedo ai ragazzi qui presenti un minuto della loro attenzione. Siete piccoli, siete bravi, siete giovani, siete tutti per bene. Qui siete accompagnati dalle vostre insegnanti. Bene, questo è Rosario. Qui c'è una mamma che dopo 30 anni continua a piangere il suo figliolo. Questo è Rosario. Guardatelo, guardatelo bene ragazzi. Andate a casa. Bravi, alzatevi in piedi perché fa onore a Rosario. Signori insegnanti, spiegate bene che cos'è la drammida e non abbiate paura di dire questa parola. Ditela, non l'ha detta nessuno oggi in chiesa. Caro Donaldo, la strada è chiara. C'è solo una strada, non ce ne sono altre. Questi sono gli affetti e risultati dell'andrammida. C'è una mamma che dopo 30 anni ancora piange il suo figlio. Spiegate bene a questi ragazzi, spiegate bene in modo tale che loro possano tornare a casa e parlare con i loro genitori. Siete tutti per bene. La Calabria merita di più. È un tumore maligno la drammida. E questi sono i risultati. Noi portiamo rispetto e onore per questo ragazzo, 25 anni, che non ha avuto la possibilità di crescere dei figli. Grazie. Grazie.